Ansia, paura e un generale senso di insicurezza. Le strade della capitale sembrano essere sempre più pericolose per le donne. Dopo il recente caso di aggressione subito da una giovane nel quartiere Pigneto, si riaccendono i riflettori su una realtà mai davvero sopita, quella della sicurezza per le donne. Secondo i dati pubblicati dal Corriere della Sera, nel 2023, le denunce per violenze sessuali nella capitale e in tutta la città metropolitana sono state circa 500. Una realtà trasversale che dalla periferia al centro coinvolge molti quartieri della città eterna. Le zone percepite come più a rischio dalle testimonianze raccolte però sono soprattutto quelle di Stazione Termini, Piazza Vittorio, Piazza della Repubblica. Ti senti sicura quando cammini di notte? Stare sola di notte in giro per Roma? No, non mi sento affatto sicura. Pensi che questo senso di insicurezza sia aumentato negli ultimi anni? Sì, certo. Con tutte le storie che si rendono giorno per giorno, sì. Una realtà difficile che impedisce alle donne di vivere serenamente la città.